Si arricchisce la proposta formativa del Consorzio Universitario Nisseno, come deciso dall'Università di Palermo, con un nuovo corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche Diagnostiche. Così infermieristica, arriva nella sede Nissena già dall'anno accademico 2022-2023, oltre Palermo e Trapani. Un nuovo corso sarà un'ulteriore risposta alla richiesta sempre più in crescita e si aggiunge ai corsi presenti a Caltanissetta, ovvero Medicina e Chirurgia, Ingegneria Biomedica e Scienze e Tecnologie Agrarie. Sono molto contento che con il lavoro sinergico del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo del Consorzio abbiamo raggiunto un risultato, quello di avere una nuova offerta formativa che è la laurea in Scienze Infermieristiche. E' un obiettivo importante perché serve anche un rilancio della città, cioè poter anche offrire un nuovo corso al centro della nostra città e non ci fermeremo perché questo è l'inizio di un percorso che cercheremo di portare avanti anche con altre richieste e offerte formative, chiaramente nei tempi che non si possono pronosticare, però non cercheremo di essere a medio tempo propositivi di altri corsi. E' chiaro che questo è un obiettivo che siamo posti come Consiglio di Amministrazione sin dall'inizio del nostro mandato e fortunatamente oggi abbiamo raggiunto questo risultato che non è nostro ma è della città, della provincia e di tutti coloro che potranno partecipare a questo, potranno iscriversi a questo corso. Gli esami di ammissione si terranno in estate, visto il numero programmato, una proposta quella del Consorzio Universitario che insieme ai corsi di alta formazione del progetto Schiele e Futuri Master guarda sia alla formazione che alle richieste del mondo del lavoro.